Taglio del nastro per i nuovi locali della filiale Banca Carim di Perugia. L'istituto di credito, presente in Umbria anche a Bastia Umbra, Città di Castello e Umbertide, nell'ambito della razionalizzazione della sua rete distributiva, ha infatti deciso per Perugia un cambio di sede, inaugurando la nuova filiale in via Settevalli 185, zona particolarmente attiva dal punto di vista commerciale. Abbiamo scelto una location che fosse più visibile al pubblico per far conoscere la nostra banca, che sta cercando di poter crescere sulla piazza di Perugia, che riteniamo una piazza interessante, e soprattutto far conoscere quella che è la nostra realtà e quindi la possibilità di offrire servizi a 360 gradi nel sostenere le famiglie che possono avere esigenze di vario tipo, le piccole imprese e chiaramente risparmiatori. Questo è un messaggio di fiducia nell'economia e di vicinanza al mondo delle imprese e delle famiglie. Una banca che si rinnova e che riposiziona anche il proprio sito è una cosa importante che dà questo messaggio. La struttura, fornita di due sportelli al pubblico e quattro uffici, è caratterizzata anche dalla presenza di un sistema cash-in-cash-out, grazie al quale il denaro, custodito in una cassaforte intelligente, viene distribuito nei limiti e con i ritardi stabiliti dal responsabile alla sicurezza della banca. È questo nuovo servizio che abbiamo portato, che ci pone alla guanguardia in termini di sicurezza e gestione del contante, in modo tale così da poter eliminare per quanto possibile quelli che possono essere i rischi che la clientela può correre nel prelevare o versare denaro contante. Presenta all'inaugurazione anche l'assessore regionale Umbro alle politiche abitative Stefano Vinti, che ha vagliato la possibilità che Banca Cari ma derisca alla convenzione mutui garantiti prima casa, stipulata tra Regione Umbria, società GEPAFIN S.P.A. e banche interessate. Il meccanismo è che le banche convenzionate attraverso GEPAFIN hanno la garanzia della regione sul mutuo di chi lo richiede. Ci sono indicazioni che questa nuova banca intende aderire al mutuo garantito di GEPAFIN, questo sarebbe importante, un aiuto significativo sia per l'aspirazione di chi vuole acquistare la prima casa, sia per il ciclo delle delizie.